Grazie perché mancano così tante, ci sono così poche occasioni in cui si può riflettere, si può parlare, si può ragionare, perché questa è una strana stagione della politica. Io vorrei partire con un filmato che ho preparato con un giovane che si trova lì all'angolo, ma non all'angolo per motivi, perché è timido, e per sapere chi siamo stati e chi siamo. Grazie. 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 La mafia non è affatto invincibile, è un fatto umano e come tutti i fatti umani ha un inizio e avrà anche una fine. Piuttosto bisogna rendersi conto che è un fenomeno carribilmente serio e molto grave e che si può vincere non pretendendo l'eroismo dai nervi cittadini, ma impegnando in questa battaglia di profusione. Grazie. 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 Grazie a tutti. Non si è mai verificato che la cultura fosse tutta una serie, non so come dire, è stata sempre una missione dei sovrasciuti, quella che possiamo chiamare la cultura con la scena, è sempre stata l'aspetto dei sovrasciuti. Lorenz, in un certo punto, dice che probabilmente non esiste una sola persona, perché se essi stessi sarebbe già fuggito. In effetti, questo è anche me, le persone volte ci sono, ma in un certo più solito come iniziano qua. A nome di tutti coloro che hanno dato la vita per lo Stato, chiedo innanzitutto che venga fatta giustizia adesso, rivolgendomi agli uomini della mafia, perché ci sono qua dentro. E non, ma certamente non cristiani, sappiate che anche per voi c'è possibilità di perdono. Io vi perdono, però vi dovete metterlo in ginocchio, se avete il coraggio di cambiare. Responda lui, Lucy, mi e il garzone vogliamo una bibita, capisci? Una bibita e due. Tu al resto non puoi viaggiare, non comprendiamo. Tu ha il piton, pur qual l'u. Grazie. 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 bloccato, mentre il senatore Salvatore Visi